e salve a tutti e bentornati o ben venti nella mia cucina io sono l'unsegna91 e sono il coco folle oggi voglio proporvi una ricetta ideale sia come secondo che come contorno facile e veloce da preparare patate e fagiolini ed ora introduciamo gli ingredienti per quattro commensali gli ingredienti sono i seguenti iniziamo da un chilo di patate sciacquate 700 grammi di fagiolini privati delle estremità e fatti a metà aglio tritato finemente il sale quanto basta aceto quanto basta infine olio extravergine d'oliva acqua che bolle ho aggiunto il sale adesso ci tuffiamo i fagiolini dopo aver fatto sbollentare i fagiolini per almeno una ventina di minuti li scoliamo nella stessa pentola dove abbiamo sbollentato i fagiolini ci tuffiamo le patate dopo aver fatto bollire le patate per almeno 35 minuti le scoliamo le patate ancora calde dovranno essere sbucciate una volta sbucciate le patate le dobbiamo far raffreddare dopo aver fatto raffreddare le patate è il momento di tagliarle adesso aggiungiamo i fagiolini l'aglio l'aceto e l'olio patate e fagiolini questo è il risultato finale ebbene adesso assaggiamo quindi buon appetito proprio bene le cose semplici sono sempre le più buone questa ricetta è davvero molto semplice e deliziosa provatela e fatemi sapere come viene con questo posso concludere il video se il video vi è piaciuto lasciate un bel like commentate condividete mi raccomando ricordatevi di iscrivervi attivando la campanella per rimanere sempre tornati se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette le ricette del cocofale su amazon link in giù in iscrizione noi dunque ci vediamo al prossimo video ricordatevi che se vi sembra buono mangiatelo ciao 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 ciao